Geremias Rodriguez, fratello di Belen, è appena approdato in Honduras e già sta facendo parlare di sé. La prima puntata dell'Isola dei Famosi è stata, infatti, alquanto scoppiettante, anche per lo scontro tra Rodriguez e Nicolas Vaporidis. Mentre Geremias è stato abbinato al padre, Gustavo, Vaporidis ha fatto coppia con Estefania Bernal, una modella di origine argentina. I primi dissapori si sono originati, come spesso accade, in occasione della nomination, durante la quale Geremias Rodriguez, all'oscuro dell'immunità concessa a Nicolas Vaporidis, ha fatto il suo nome. Tuttavia, la nomination è stata annullata proprio a causa dell'immunità, anche se è stata ampiamente motivata da Rodriguez. Nomino Nicolas perché è l'unico che, quando è entrato in Palapa, non mi ha salutato. Anche dopo ho cercato il suo sguardo, ma non mi ha mai guardato. In pratica, tra i due concorrenti non si è creato un rapporto cordiale, come spesso accade tra compagni di avventura. Ciò, sicuramente, pregiudicherà una serena convivenza sull'isola, dove, al contrario, la collaborazione reciproca è fondamentale, anche per garantire che tutti i bisogni vengano soddisfatti, in un ambiente già ostile di suo. Ovviamente, i Naufredi non beneficeranno di tutti i comfort a cui, probabilmente, erano abituati. Riguardo Nicolas Vaporidis, inoltre, è emersa un'altra circostanza strana, in quanto l'attore gareggia nella squadra dei single, mentre pare che a Roma abbia una fidanzata. Dunque, di sicuro, tale anomalia sarà oggetto di discussione nelle prossime puntate dell'Isola dei Famosi. Come spesso accade, il reality fa emergere gli aspetti più in ombra di ciascun concorrente. Chissà cosa dirà Jeremias Rodriguez su questa presunta rivelazione. Jeremias ha assistito alla dichiarazione di Nicolas Vaporidis sul proprio stato di single, ma non sa ancora che D'Agospia ha rivelato che a Roma è fidanzatissimo. Non resta che seguire i prossimi sviluppi della situazione per vedere anche come la conduttrice, Ilari Blasi, affronterà la vicenda. Se la presunta rivelazione sulla vita sentimentale di Nicolas Vaporidis dovesse rivelarsi veritiera, di sicuro la produzione prenderà provvedimenti, in quanto l'attore non potrà più gareggiare tra i single. Si preannunciano dunque ulteriori scontri con Jeremias Rodriguez, dato che il rapporto tra il fratello di Belen e l'attore è sembrato compromesso fin dalle prime battute.